Ciao ragazzi, il trick di oggi è il Magic Spin Il Magic Spin è uno dei trick creative che preferisco In questo tutorial ve lo divideremo in due step Nel primo step dobbiamo colpire il pallone con il piede destro E farlo rimbalzare sul piede sinistro Ma il piede sinistro deve avere il pallone per terra Ora vi faccio vedere Nel secondo step dovete calciare lievissimamente il pallone Con la parte inferiore in modo tale da riportarle in alto Vi faccio vedere come Per il prossimo tutorial cliccate qui e non dimenticate di seguirci su Facebook, Twitter e Instagram Per il prossimo episodio 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 Grazie a tutti.